Oggi parliamo di Goal Setting, ovviamente applicato al mondo degli universitari e in modo particolare ti faccio vedere come devi applicare il principio SMART, ovviamente subito dopo la sigla. Come sempre, prima di cominciare, ti ricordo che è disponibile il metodo di QE, trovi tutto quello che ti serve nel link in descrizione. E quindi possiamo dedicarci al Goal Setting. In che cosa consiste? Non è altro che un processo che controlliamo, che ci permette di creare un vero e proprio piano di azione, finalizzato a definire degli obiettivi che devono avere delle caratteristiche in particolare. Infatti oggi attraverso il principio SMART andremo a vedere proprio questo e di conseguenza la capacità di creare degli obiettivi, di fissarli nel modo corretto con le giuste qualità, ci permetterà non solo di tenerci motivati mentre cerchiamo di raggiungerli, e poi anche ovviamente di raggiungerli e quindi arrivare appunto all'obiettivo prefissato, a obiettivi, al plurale perché puoi applicarlo anche nel caso in cui tu volessi impostarne più di uno. Io ti faccio vedere come impostarne uno solo, poi tutto il resto sarà la tua abilità e capacità nel applicarlo anche in altri casi. Quindi il principio SMART sostanzialmente è un acronimo, sono 5 diverse qualità che deve avere qualunque obiettivo, che quindi devi adottare nel processo di goal setting per fare in modo di avere a disposizione degli obiettivi che rispettando appunto queste 5 regole possono essere davvero raggiunti. E partiamo con il primo di queste 5 qualità, S di SMART, sta per specific, quindi specifico. L'obiettivo che devi andare a sviluppare deve essere assolutamente specifico, cioè deve essere individuabile in qualcosa di molto particolare rispetto a quello ovviamente che vuoi ottenere. Quindi per esempio, nel mondo dello studio universitario, dire voglio riuscire a studiare il libro non è un obiettivo specifico. Ti faccio un esempio e come vedi questo esempio poi sarà applicato anche a tutti gli altri 5, gli altri 4 anzi, presso questi 5, momenti che determinano appunto l'approccio SMART, il principio SMART al goal setting. Se dovessimo scegliere di studiare 10 pagine in un giorno, questo è anzitutto un obiettivo specifico, perché non è generico, appunto non è troppo basato su quello che potremmo fare, ma non sappiamo nemmeno esattamente che cosa fare. 10 pagine è anzitutto qualcosa di molto definito all'interno di un perimetro di possibilità, possiamo dire. E quindi la prima qualità che deve avere un obiettivo è quella di essere specifico e non lasciato appunto molto al caso e ti ripeto, l'esempio che voglio proporti, studiare 10 pagine in un giorno è anzitutto un obiettivo specifico. Poi dopo alla fine vedrai cosa voglio dire con questo esempio. La seconda qualità che dobbiamo andare a gestire, quindi SM di SMART, la M, sta per measurable, quindi misurabile. L'obiettivo deve essere misurabile. Torniamo a quello che ti ho fatto prima come esempio. Se il mio punto di riferimento è un obiettivo, per esempio di studiare l'intero libro, quello che ti ho detto prima, non è misurabile. Sì, posso capire esattamente nel momento in cui vado a completare il libro che ho completato appunto questo processo e che ho raggiunto l'obiettivo, ma non è immediato riuscire a capire quanto di quel libro posso riuscire a studiare in un giorno, perché ovviamente l'intero libro non è studiabile e quindi non posso misurare questo, non posso considerarlo come un criterio. Se invece, tornando all'esempio classico, voglio studiare 10 pagine in un giorno, non solo è specifico, quindi rispetto alla S, ma anche la M di measurable, quindi di misurabile, è altrettanto rispettata. Perché 10 pagine posso esattamente capire come devo studiarle e di conseguenza posso anche misurare l'obiettivo, che quindi è concreto e specifico. La A nel Smart sta per attainable, quindi ottenibile. Se dovessi farti la domanda, puoi studiare 10 pagine in un giorno? Ovviamente la risposta è sì. Magari non hai a disposizione le tecniche giuste, ma puoi farlo. Lo fanno tantissimi studenti e quindi alla domanda è ottenibile come obiettivo, la risposta è sì. Quindi questo è un altro dei criteri che dobbiamo rispettare. L'obiettivo può essere ottenuto, ovviamente se rispetta anche quello che abbiamo visto prima, quindi è specifico, numero uno, è misurabile, posso ottenerlo e posso anche misurare l'obiettivo nel modo ancora più particolare. E quindi anche questa terza qualità del principio Smart è stata rispettata. Adesso arriviamo alla R e la R sta per relevant. È rilevante questo obiettivo nell'intero processo che mi interessa? Per esempio, devo studiare un libro di 150 pagine. Se riesco a studiare 10 pagine, già ho fatto un quindicesimo appunto, quindi già ho fatto anche una buona quantità di studio, ho studiato una buona parte delle informazioni e quindi sono già a buon punto anche se per ora soltanto all'inizio. Se invece in un intero giorno dovessi studiare una pagina o mezza pagina, è troppo poco rispetto a quello che è il totale dello sforzo che devo fare, quindi quelle 150 pagine. Quindi l'obiettivo deve essere anche rilevante rispetto al mio processo in generale di studio e di apprendimento. E quindi questo è un altro modo attraverso cui il classico obiettivo di 10 pagine in un giorno è qualcosa che dovresti assolutamente considerare come punto di riferimento. Se vuoi scoprire anche come fare a livello pratico, ho fatto molti video nel mio canale in cui mi dedico proprio a questo aspetto. E infine possiamo andare a parlare della T, di SMART, quindi l'ultimo, e questo riguarda il time bound, quindi legato al tempo. Posso davvero in una giornata sola studiare 10 pagine? Ovviamente sì, devi avere le tecniche giuste, devi sapere come fare, ma è assolutamente realizzabile all'interno delle tempistiche preposte. Se l'obiettivo fosse stato 200 pagine in mezz'ora, in quel caso non è time bound, quindi non è assolutamente legato al tempo, non puoi proprio riuscire a realizzarlo. Quindi, andando a concludere, quando parliamo di un obiettivo, questo deve essere impostato attraverso questa strategia di goal setting, secondo il principio SMART, secondo queste 5 qualità che deve avere. L'obiettivo che ti ho proposto, ma ovviamente puoi crearne tantissimi, deve rispettare tutti e 5 questi principi. Possiamo dire queste qualità. Ecco, l'obiettivo che ti propongo di studiare 10 pagine in un giorno rispetta queste 5 qualità. Qualora tu volessi impostare un nuovo obiettivo o diverso, sperimentare e provare, fai sempre attenzione a queste 5 lettere che compongono l'acronimo SMART e avrai la certezza che stai facendo in modo che il goal setting, il processo che hai messo in gioco per creare questo piano di azione, è stato realizzato nel modo corretto. Questo è quello che ti volevo proporre nel video di oggi. Al solito, se hai dubbi, domande, fammi sapere nella sezione dei commenti o attraverso i contatti che trovi in descrizione e ti aspetto con moltissimo piacere nel video che uscirà domani.